benvenuti a questo nuovo appuntamento del corso di modellazione 3d con tinkercad oggi vedremo come esportare un oggetto allora come vedete sul mio piano di lavoro già creato una forma una forma abbastanza semplice se volete vedere come l'ho creata molto semplicemente andando a fondere il cubo un cilindro e quattro cubi vuoti per creare questa questa scanalatura semplicemente la forma di di una molletta bene per cui l'ultima una delle ultime cose ci manca da vedere di funzionalità di questo programma è quella di esportare una forma 3d come vi dicevo nella lezione precedente prima di esportare la forma avete visto ho unito tutte le forme quindi ho fatto un raggruppa finale in modo da esportare una forma unica bene quindi seleziono il mio oggetto e clicco sul comando esporta sotto vedete se ci passo il mouse sopra mi dice scarica per la stampa 3d se cliccate avete la possibilità di includere tutti gli elementi presenti sul vostro piano di lavoro oppure solamente la forma interessata la forma su datemi selezionata ora in questo caso per me non farebbe grande differenza però abituatevi secondo me a farlo a scegliere sempre a selezionare la forma che intendete che intendete scaricare anche perché se scaricate tutti gli elementi del progetto ricordatevi che verranno scaricati tutti in un unico file quindi la forma conterrà tutte quelle che sono poi effettivamente presenti sul vostro sul vostro piano di lavoro per scaricare vedete avete due possibilità scaricare per la stampa 3d quindi esportare il file in formato obj ostl potete esportare in entrambe questi formati cosa cambia solitamente l'obj è un formato meno ridotto quindi esporterà file un po più pesanti rispetto all'stl che invece è un formato più complesso più complesso in alternativa potete esportare per il taglio laser e esportare un formato che in realtà abbiamo già visto nelle lezioni precedenti che è lsvg quindi in questo momento il taglio laser lo possiamo tralasciare potete scegliere semplicemente se esportare in setl o in object altra possibilità che vi dà questa finestra è quella di inviare il vostro il vostro oggetto direttamente a un servizio online di stampa ok qui ce ne sono alcuni dei più famosi sono quasi tutti i servizi servizi esteri o il più famoso probabilmente è materialize una possibilità in più in realtà se seguite questo corso molto probabilmente avete una stampante quindi la cosa più veloce da fare quella di scaricarvi il stl sul vostro sul vostro pc e poi andare a stamparlo ok solo per titolo dimostrativo vedete eccolo qua il mio stl è stato scaricato si chiama così come io ho chiamato il mio lavoro quindi in questo caso corso tinkercad se lo vado aprire ora me lo aprirà in automatico con il visualizzatore di windows 10 oppure altre opzioni potete scegliere voi con quale programma andare aprirlo in questo momento mi va benissimo scaricarlo con il visualizzatore eccolo qua esattamente come potete vedere l'oggetto che ho modellato in tinkercad a questo punto siete pronti per inserirlo in un software di slicing e preparare il vostro preparare la vostra stampa e quindi poi andare a stampare realmente in 3d eccolo qua perfetto oggi lezione molto molto breve vi saluto ci vediamo la prossima